Ecco sfuso, detersivi alla spina, risparmia, rispetta e ricicla. Via Luigi Ferrara 10, Cava dei Tirreni Sono ancora tanti i cittadini cavesi che non rispettano le regole sul corretto conferimento dei rifiuti, rendendosi protagonisti di atti di inciviltà, e quanto emerge da un dettagliato report divulgato dal Nucleo degli Ispettori Ambientali di Cava dei Tirreni. I volontari, coordinati dal Cavalier Livio Trapanese, hanno infatti reso noto che dei circa 200 verbali da loro contestati, dal dopo pandemia sabato scorso, in materia di conferimento di rifiuti indifferenziati ed in giorni non consentiti, ma anche per l'affissione selvaggia l'omessa rimozione delle deiezioni canine e l'imbrattamento del suolo stradale, oltre 115 sono stati contestati di recente. Sulla base dei riscontri dell'attività condotta dagli ispettori, con la regia della sezione ambiente della Polizia Municipale e con la cooperazione degli operatori della Metellia Servizi, è emerso inoltre che via Francesco Carillo, Corso Principe Amereo, Piazza San Francesco, via Antonio Nigro, via Papa Giovanni XXIII, via Dello Scire, via Filangeri, via Celano, Angiporto del Castello, via Giuseppe Verdi e le località contropone Pisciricoli e Citola, sono le aree dove risulta essere più accentuato il deprecabile fenomeno dell'abbandono di rifiuti indifferenziati ed in giorni non consentiti, soprattutto il sabato, quando non è ammesso alcun conferimento in tutta la città. Gli ispettori segnalano anche le ingenti quantità di avanzi di alimenti mescolate ad ogni sorta di rifiuto. Il tutto, così indifferenziato, si legge nella nota diffusa, viene destinato ai centri di raccolta con le sborso di fior di quattrini. E poi c'è il caso dell'amianto, guaine bituminose, materiale di risulta e sanitari abbandonati in ogni dove, con la conseguente necessità per rimuoverli di promuovere una gara per ditte specializzate. Nel corso delle attività istituzionali, inoltre, gli ispettori ambientali hanno inoltrato 12 comunicazioni di notizie di reato alla Procura della Repubblica di Nocere Inferiore, vedendo ben 5 indagati raggiunti dai relativi decreti di condanna per essersi resi responsabili dei reati di diffamazione a mezzo stampa, rifiuto di indicare la propria identità personale, oltraggio, violenza, lesioni e minaccia pubblico ufficiale.